5 e 3 La cipensa lei è coleto al vento Dipende dalle persone Mio babbo era uno di quelle O era capace di farmi fare qualsiasi cosa Mi capiva, sapeva come prendermi E io cadevo come una pera cotta Gli dicevo sempre, sempre, sempre di sì. Ma allora tutti questi tesori che lei nasconde, questa conchiglia, questo scrigno, c'è il sistema di aprirlo e farsi dire sempre di sì, eh? È più facile di quello che lei pensi. Basta avere la chiave giusta. E dove sarà questa chiave? Ah, lo sa il cielo. Si sta aprendo. Allora diceva che, insomma, questa chiave che lei dice sempre di sì, bisogna farla venire dal cielo, eh? Eh sì. Vabbè, io ci provo. Se la Madonna me la buttasse anche a me, non si sa mai, eh? Proviamo. Maria, la chiave! È questa? Ma deve proprio andare a casa. È gelato, già, è gelato al cioccolato. Prendiamolo subito. No, ora no. E quando? Non lo so. Facciamo decidere al cielo anche questo? No, per carità. Lasci stare la Madonna, non la disturbi per un gelato al cioccolato. Eh, 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 no. È troppo importante. Non sappiamo decidere quando prenderlo, questo gelato glielo devo chiedere. Maria! Manda qualcuno a dirci fra quanto tempo dobbiamo prendere questo gelato al cioccolato. fra sette minuti. Ecco, questa è casa mia. Ci sono passato mille volte, mi sono sempre chiesto, ma chi ci abiterà? Sai che volevo fare il negozio proprio qua davanti? La libreria? Sì, così ci vediamo tutti i giorni. Allora, arrivederci. Lei è stato molto gentile con me. Adesso voglia di farmi un bel bagno caldo. Eh, dimenticavo di dirle... Dica. Che ho una voglia di fare all'amore con lei che non si può immaginare. Ma questo non lo dirò mai a nessuno, soprattutto a lei. Mi dovrebbero torturare per farmelo dire. Dire cosa? Che ho voglia di fare all'amore con lei, ma non una volta sola, ma tante volte. Ma a lei non lo dirò mai. Solo se diventassi scemo, le direi che farei all'amore anche ora, qui davanti a casa, per tutta la vita. Corra, se no si bagna, sta per ripiovere. Che ci pensano? È tutto bagnato. Vestita non è niente. È cappello, se il cappello mi dà... mi dà noia. Mi ci vorrebbe un cappello asciutto, ma dove lo trovo? Com'era? Ah, già, è facile. Maria! Manda qualcuno che dia un cappello asciutto a questo mio amico. Bene, buonasera principessa, arrivederla. la, 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 bell'nui d'amor, che bell'nui...